Bene, riprendiamo la nostra catechesi di formazione sulla lettera apostolica desiderio desiderabile di Papa Francesco. Continuiamo la nostra riflessione sull'Ars Celebrandi, dove l'abbiamo interrotta prima delle festività pasquali al numero 54, il penultimo incontro, questo concluderemo il 2 maggio proprio con la conclusione della lettera. Ecco, se vi ricordate, il Papa ci chiedeva di riscoprire tutti, quindi assemblea liturgica, presidente dell'assemblea, la dimensione dell'arte del celebrare, perché celebrare è un'arte. Ecco, adesso il Papa approfondisce un po' più la dimensione dell'arte del celebrare, Lars Celebrandi, dal punto di vista del presidente dell'assemblea. Egli infatti scrive, se è vero che Lars Celebrandi riguarda tutta l'assemblea che celebra, ricordiamoci che l'assemblea celebra, non sente. L'assemblea celebra, partecipa attivamente. E' altrettanto vero che i ministri ordinati devono avere per essa una particolare cura. Nel visitare le comunità cristiane ho spesso notato che il loro modo di vivere la celebrazione è condizionato, nel bene e purtroppo anche nel male, da come il parroco presiede l'assemblea. Cioè è condizionato molto dal presidente dell'assemblea liturgica, che ha il grave compito di presiedere a nome di tutta l'assemblea, ma anche di guidare quell'assemblea, inevitabilmente. Potremmo dire che vi sono diversità e diversi modelli di presidenza. E questo, vedete, il Papa lo mette tra virgolette, proprio per indicare che questo non dovrebbe accadere. Perché il presidente dell'assemblea liturgica sa come deve presiedere. Glielo dico nelle rubriche, le indicazioni, la formazione. Se ci sono diversi modelli è perché molte volte entra la dimensione soggettiva. E ora vedete, nella liturgia la dimensione soggettiva non può esistere, perché è preghiera di Chiesa. È la Chiesa che ne detta le regole. E con possibile elenco di atteggiamenti che, pur essendo tra loro opposti, caratterizzano la presidenza in modo certamente inadeguato. E il Papa dice, rigidità austera o creatività esasperata, nell'uno nell'altro. Misticismo spiritualizzante o funzionalismo pratico. Cioè, o l'esagerata spiritualità della celebrazione o la funzionalità pratica. Sbrigatività frettolosa o lentezza enfatizzata. Sciatta trascuratezza o eccessiva ricercatezza. Sovrabbondante affabilità o impassibilità eratica. Purtroppo, vedete, gli uomini siamo fatti così. Noi amiamo sempre gli ismi. E nella liturgia gli ismi entrano e diventiamo estremisti nel bene e nel male. Pur nell'ampiezza di questa gamma, penso che l'inadeguatezza di questi modelli abbia una comune radice. un esasperato personalismo dello stile celebrativo, che a volte esprime una malcelata mania di protagonismo. E questo, vedete, è forte. È forte. Un esasperato personalismo e protagonismo. Siccome io presiedo, io faccio quello che voglio. No. Io devo fare quello che la Chiesa mi dice di fare. e devo far sì che l'Assemblea si trovi in essa coinvolta. Io potrei pur celebrare, secondo il rito di San Paolo VI, la Messa in latino, perché a me piace, perché ne comprendo il significato. Ma sarebbe opportuno nei confronti della mia Assemblea liturgica? Non credo. Non credo. Devo fare una differenziazione di presidenza liturgica, perché una cosa è presiedere l'Eucaristia con una comunità prevalentemente di bambini. Come renderli partecipi? Il Presidente dell'Assemblea deve avere questa consapevolezza di chi ha davanti. Qualcuno dice, ma come fate a celebrare quattro messe domenicali, compresa quella del Sambato Sera, ripetendo sempre la stessa omenia? Ecco, io vi posso assicurare che presiedo quattro messe, ma non faccio mai la stessa omenia. Ma non la faccio perché cambia l'uditorio, cambia l'Assemblea. E quindi devo entrare nella dimensione lì, ma non per esagerato protagonismo o personalismo, ma per senso pastorale. Spesso ci acquista maggiore evidenza quando le nostre celebrazioni vengono trasmesse in rete, cosa non sempre opportuna e sulla quale dovremmo riflettere. Vedete, durante il lockdown noi abbiamo esagerato. Con la voglia di renderci presenti a tutti, abbiamo trasmesso di tutto. Celebrazioni, preghiere, catechesi, eccetera. E la gente si è convinta che quella tipologia, molto comoda, come molti ci hanno detto, come era bello, io mi sedevo nel divano, mi mettevo il tablet davanti, eccetera, sostituisce il senso del convenire della comunità. Ma a maggior ragione abbiamo potuto notare diversi atteggiamenti, stili celebrativi, ridicolaggini, che poi oggi a finire sui social non ci vuole niente, no? Intendiamoci, non sono questi gli atteggiamenti più diffusi, ma non di rado le assemblee subiscono questi maltrattamenti. Molto si potrebbe dire sull'importanza e sulla delicatezza del presiedere. In più occasioni mi sono soffermato sul compito impegnativo di tenere l'omenia. Il Papa dedica dieci numeri dell'Evangelio Gaudium sull'omelia, dando precise indicazioni su come deve essere un'omelia. Omelia, dal greco omileon, significa risonanza di quella parola che abbiamo proclamato. E perché quella parola risuoni, occorre che la risonanza sia ben preparata, nessuno può improvvisare un'omelia. Secondariamente che sia breve. Perché più allunghiamo, più aumenta la distrazione. E poi torniamo a casa con la testa piena di tante cose, ma non riusciamo ad andare al nocciolo della questione. Mi limito ora ad alcune considerazioni più ampie, sempre volendo riflettere con voi su come veniamo formati alla liturgia. Penso alla normalità delle messe domenicali nelle nostre comunità. Mi riferisco quindi ai presbiteri, ai sacerdoti, ma implicitamente a tutti i ministri ordinati. Il presbitero vive la sua tipica partecipazione alla celebrazione in forza del dono ricevuto nel sacramento dell'ordine. Tale tipicità si esprime proprio nella presidenza. Quando siamo stati ordinati sacerdoti, quando il vescovo ci ha consegnato il canice con la patena, ci ha detto ricevi le offerte del popolo santo di Dio per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai. Imita ciò che celebrerai. Conforma la tua vita a Cristo Signore. Ecco, la presidenza si inserisce in questo contesto. Non è uno show, è un servizio, il servizio della presidenza. Come tutti gli uffici che è chiamato a svolgere, non si tratta primariamente di un compito assegnato dalla comunità, quando piuttosto della conseguenza dell'effusione dello Spirito Santo ricevuta nell'ordinazione che lo abilita a tale compito. Anche il presbitero viene formato dal suo presiedere l'assemblea che celebra. Quando io presiedo l'eucaristia è anche per me un momento formativo, quell'eucaristia. È anche per me una occasione a cui attingo grazia. Non è che per il semplice fatto che sono prete è come se io dispensi a tutti la grazia, ma a me non serve. No, io sono il primo che partecipa del beneficio di quella azione, no? In cui devo trovarmi coinvolto. C'è una preghiera che recitiamo sotto voce ai sacerdoti, prima di fare la comunione, in cui noi chiediamo al Signore di non essere mai separati da Lui. E' fondamentale questo. E' fondamentale. Perché da quella celebrazione anche io attingo beneficio. Perché questo servizio venga fatto bene, con arte appunto, è di fondamentale importanza che il presbitero abbia anzitutto una viva coscienza di essere, per misericordia, una particolare presenza del risorto. e quando si ha questa viva coscienza si avverte anche il senso della responsabilità. Altare non è un teatrino. Altare non è il luogo dove io adesso, se devo dire qualcosa alla comunità, gliela dico dall'altare con la mia autorità, no? non è quello il luogo dell'esortazione o del rimprovero. E' il luogo dell'ascolto, della parola, dello spezzare il pane, del far sì che questa assemblea si ritrovi, come diceva oggi la prima lettura tratta dal libro degli Atti degli Apostoli, cor unum et anima sola, nella comunione con il Padre e con noi. Il ministro ordinato è egli stesso una modalità di presenza del Signore che rendono l'assemblea cristiana unica, diversa da ogni altra. Ricordate il Sacro Santo Muconcili Musecci numero 7. Cristo è sempre presente nella sua Chiesa. Lo è particolarmente nelle celebrazioni liturgiche. è presente nella sua parola, è presente nell'Eucaristia, è presente nei Sacramenti, è presente nell'Assemblea, è presente nei suoi ministri. Quindi il Presidente dell'Assemblea in sé è presenza di Cristo risorto. Questo fatto dà spessore sacramentale in senso ampio a tutti i gesti e le parole di chi presiede. L'Assemblea ha diritto di poter sentire in quei gesti e in quelle parole il desiderio che il Signore ha, oggi come nell'ultima cena, di continuare a mangiare la Pasqua con noi. ecco perché dovremmo già entrare nell'ottica che celebrare, partecipare non è una questione di abitudine, è un'esigenza. La mia generazione è stata formata, grazie ai nostri superiori del tempo, su questi pilastri fondamentali. parola, Eucaristia, comunità, comunione. E tutto ruotava attorno a questo, a questa presenza viva del Signore risorto, nell'Eucaristia celebrata al mattino e nell'adorazione al pomeriggio, nella preghiera liturgica della Chiesa, nella preghiera fatta di parola di Dio. Io lo capisco che è molto più semplice insegnare a pregare dicendo che per la tua gloriosa passione abbi misericordia di noi e del mondo interno. È molto più complicato pregare con un brano della scrittura, con i salvi. E' lì la qualità della preghiera a cui dobbiamo tendere. Il risorto è dunque il protagonista. Non lo sono di sicuro le nostre immaturità, che cercano assumendo un ruolo e un atteggiamento una presentabilità che non possono avere. Grazie al web, in questa Settimana Santa, abbiamo visto di tutto e di più. Ho visto certe ritualità in cui non sapevo se ridere o piangere. e tra me e me consideravo. E questo è il servizio che noi rendiamo. Perché a me piace. E io chi sono? E perché a me piace un'intera assemblea deve conformarsi a me. E questo è il senso di ecclesialità, di ecclesiologia che noi abbiamo, di comunità, di rispetto degli altri. No, assolutamente. Il presbitero stesso è sopraffatto da questo desiderio di comunione che il Signore ha verso ciascuno. E' come se fosse posto in mezzo tra il cuore ardente d'amore di Gesù e il cuore di ogni fedele, l'oggetto del suo amore. Presidere l'eucaristia è stare immersi nella fornace dell'amore di Dio. Quando ci viene dato di comprendere o anche solo di intuire questa realtà, non abbiamo di certo più bisogno di un direttorio che ci imbonga un comportamento adeguato. Le regole vengono dettate perché non sempre abbiamo veramente compreso che noi siamo manifestazioni di Gesù il risorto. E sull'altare mi diverto. Se di questo abbiamo bisogno, cioè delle regole, è per la durezza del nostro cuore. La norma più alta e quindi più impegnativa è la realtà stessa della celebrazione eucaristica, che seleziona parole, gesti, sentimenti, facendoci comprendere se sono o meno adeguati al compito che devono svolgere. E' evidente che anche questo non si improvvisa. E' un'arte, chiede al presbitero applicazione, vale a dire una frequentazione assidua del fuoco di amore che il Signore è venuto a portare sulla terra. Questione di formazione. E noi dobbiamo formarci a questo. Ma a formarci ad una liturgia vera, autentica, essenziale, sobria, nobile per semplicità. Non ad una liturgia fatta di pomposità, fatta di una grande teatralità che inevitabilmente poi confonde l'assemblea. L'unico stile celebrativo è fondamentale per esprimere l'autentica ecclesialità. Oggi, vedete, noi viviamo in una dimensione di mobilità permanente. Non dirado nel giorno del Signore io posso essere a celebrare l'Eucaristia nella mia comunità di appartenenza, ma la domenica successiva, o perché mi sto facendo una passeggiata, o perché sono in pellegrinaggio, o perché sono in gita, o perché sono in vacanza, potrei trovarmi in un'altra assemblea liturgica. E lì devo avere l'unico stile celebrativo. Perché il fedele non si disorienti. Quante volte in 34 anni mi sono sentito dire, sa, sono stata ammessa lì, hanno fatto questo, hanno fatto quest'altro, ma perché? E così, evidentemente, noi distraiamo dall'autentica celebrazione. Quando la prima comunità spezza il pane in obbedienza al comando del Signore, lo fa sotto lo sguardo di Maria, che accompagna i primi passi della Chiesa. Atti 1,14 dice, erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù. La Vergine madre sorveglia i gesti del suo figlio affidati agli apostoli, come ha custodito nel suo grembo, dopo aver accolto le parole dell'angelo, Gabriele, il verbo fatto carne. Perché il Papa cita questa dimensione mariana? Lo vediamo subito dopo. La Vergine custodisce ancora una volta nel grembo della Chiesa quei gesti che fanno il corpo del figlio suo. Maria immagine, tipos, dicevano i padri della Chiesa, dell'autentica immagine della Chiesa. E in quanto tipo custodisce nel grembo della Chiesa quei gesti che fanno il corpo del figlio suo. Il presbitero, che in forza del dono ricevuto con il sacramento dell'ordine ripete quei gesti, è custodito nel grembo della Vergine. Serve una norma per dirci come ci si deve comportare? Certo, se avevamo chiara questa percezione di essere custoditi nel grembo, forse tutto il cerimoniale, episcoporum prima e tutte le norme rubricali non avevano motivo di esistere. Ma siccome questa percezione non sempre si possiede, allora la norma viene in nostro aiuto. Divenuti strumento per far divampare il fuoco del suo amore sulla terra, custoditi nel grembo di Maria Vergine fatta Chiesa, i presbiteri si lasciano lavorare dallo Spirito che vuole portare a compimento l'opera che ha iniziato nella loro ordinazione. E se l'ordinazione, mediante l'imposizione delle mani e il dono dello Spirito ci fa presbiteri, non significa che siamo arrivati. Siamo sempre in cammino, io lo dico sempre agli sposi nelle celebrazioni. Non cadete nel banale errore che per il fatto di essere arrivati davanti all'altare sapete tutto sull'amore. Dovete imparare a crescere giorno per giorno in questa logica. Proprio stasera ho celebrato un sessantesimo anniversario di matrimonio, numeri impensabili oggi, no? E dicevo dove sta il segreto. Il segreto sta proprio in quel corunum et anima sola di cui parlava la prima lettura, in questa intimità dell'amore. Ora, perché Dio porti a compimento l'opera che ha iniziato in noi, l'azione dello Spirito offre a loro, ai presbiteri, la possibilità di esercitare la presidenza dell'Assemblea Eucaristica con il timore di Pietro, consapevole del suo essere peccatore. Vi ricordate cosa dice Pietro a Gesù? Allontanati da me, che sono un peccatore. Con l'umiltà forte del servo sofferente, con il desiderio di farsi mangiare dal popolo a loro affidati nell'esercizio quotidiano del Ministero. È la celebrazione stessa che educa questa qualità di presidenza. Non è, lo ripetiamo, una adesione mentale, anche se tutta la nostra mente, come pura la nostra sensibilità, viene in essa coinvolta. Il presbitero è dunque formato alla presidenza dalle parole e dai gesti che la liturgia mette sulle sue labbra e nelle sue mani. Quello dobbiamo fare. Il nostro primo libro di preghiera è il Messale, ma lo dovrebbe essere per tutti. Ascoltate attentamente le bellissime collette del tempo pasquale che ci invitano a riconsiderare tutti i benefici della Pasqua, a vivere questa vita nuova. Ogni volta che ripetiamo la formula della consacrazione, per voi e per tutti, devo sentirmi coinvolto in questo dono. Se ho rinunciato ad una famiglia mia personale, ad uno Stato comune per abbracciarne uno diverso, l'ho fatto in quest'ottica eucaristica, dato per voi e per tutti, come dono. E' vero che sono peccatore, ma è dato anche per me, per la remissione dei peccati. Dobbiamo sentirci coinvolti in tutto questo. Non siede su di un trono, perché il Signore regna con umiltà di chi serve. Non ruba la centralità dell'altare. Segno di Cristo, dal cui fianco squarciato scaturirono l'acqua e il sangue, fonte dei sacramenti della Chiesa, e centro della nostra lode e del comune rendimento di grazie. Noi dovremmo fare qualche volta una catechesi sugli spazi liturgici celebrativi, che non sempre forse riusciamo a comprendere. Noi pensiamo che entrando in Chiesa il posto più importante sia il tabernacolo, vero? Non è vero. Lo spazio più importante è l'altare, perché è il centro della nostra lode e del comune rendimento di grazie. Ecco perché è posto al centro, ecco perché tutto deve convergere verso lì. E io non devo rubare la centralità all'altare. Su quel trono, io sono segno di Cristo che presiede. Non sono seduto come il reuccio della comunità. Accostandosi all'altare per l'offerta, il presbitero è educato all'umiltà e al pentimento delle parole. Quando, dopo aver offerto il pane e il vino, prima del lavabbo, io dico, umili e pentiti, accoglici, oh Signore. ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Non può presumere di sé stesso per il ministero affidato, perché la liturgia l'ho invita a chiedere di essere purificato nel segno dell'alto. lavami, Signore, dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi il curo. Ripetiamo ogni volta che facciamo il lavabbo. Le parole che la liturgia mette sulle sue labbra hanno contenuti diversi che chiedono specifiche tonalità. per l'importanza di queste parole al presbitero è chiesta una vera als dicendi. Anche il modo come proclamare una colletta, una superoblata, un aposto comunio, il prefazio. Esse danno forma ai suoi sentimenti interiori, ora nella supplica al Padre al nome dell'Assemblea, ora nell'esortazione rivolta all'Assemblea, ora nell'acclamazione ad una sola voce con tutta l'Assemblea. Con la preghiera eucaristica nella quale anche tutti i battezzati partecipano, ascoltando con riverenza e silenzio e intervenendo con le acclamazioni, chi presiede alla forza a nome di tutto il popolo santo di ricordare al Padre l'offerta del figlio suo nell'ultima cena perché quel dono immenso si renda nuovamente presente sull'altare. A quell'offerta partecipa con l'offerta di se stessa. Il presbitero non può narrare al Padre l'ultima cena senza esserne partecipe. Anche io sono stato invitato a quell'ultima cena. Anche io sono stato invitato. Non può dire prendete e mangiatele tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi e non vivere lo stesso desiderio di offrire il proprio corpo, la propria vita per il popolo a lui affidato. Questo i santi l'hanno capito facilmente. Quando l'uccisore si presenta davanti a Don Pino Puglisi, Don Pino cosa fa? Sorride e gli dice me l'aspettavo. Perché l'aveva capito che quel corpo dato per voi e per tutti doveva essere dato al popolo santo di Dio. E ciò avviene nell'esercizio del suo ministero. Diremmo anche nella forma più alta del ministero che è quello della presidenza liturgica. Ecco, il Papa conclude di tutto questo e da molto altro il presbitero viene continuamente formato nell'azione celebrativa. Ecco, la liturgia è una scuola di formazione permanente anche per i presbite. È difficile, lo so. Ve lo dice uno che da venti anni dirige l'ufficio liturgico di Ocesano e tante volte sono stato costretto a manifestare di senso su taluni atteggiamenti celebrativi eccetera. come se noi fossimo i sapientoni e il popolo di Dio come li chiamavano nel Medioevo gli idiotes che non sanno nulla di quello che facciamo. No, se invece ci formiamo insieme all'unico stile celebrativo e all'autenticità della celebrazione ogni liturgia sarà una scuola di formazione per tutti e soprattutto sarà un'esperienza vera, autentica di Gesù il Risorto in mezzo a noi che ha il desiderio di mangiare la Pasqua con noi per renderci poi testimoni di questa Pasqua tutti ministri ordinati e popolo santo di Dio senza distinzione di sorta. da.